Sono aperte le iscrizioni e la frequenza per il progetto laboratorio d'arte presso il centro di Urno Aias in via Torrone 44C a Sulmona. Il progetto approvato dalla regione Abruzzo si rivolge ai diversamente abili e pluriminorati in particolare a coloro che hanno terminato il percorso scolastico continuando con il percorso abilitativo formativo. Negli ampi laboratori di terapia occupazionale ed ergoterapia saranno svolte attività che contribuiscono al miglioramento della salute e della qualità di vita sulla base di un percorso formativo personalizzato dal lunedì al venerdì con servizio di trasporto. Per informazioni e iscrizioni Grazie per la visione! Grazie! Grazie!